Il parcheggio in località Madonna del Carmine ad Agropoli non sarà più realizzato. A deciderlo è l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Coppola. Nel documento si legge che è considerato che l'amministrazione comunale in esito ai recenti interventi di rifunzionalizzazione infrastrutturale della località Madonna del Carmine e aree adiacenti ha ritenuto non più necessaria la realizzazione del parcheggio in località Madonna del Carmine ed investire le risorse residue derivanti dal mutuo POS 6059-01 mediante diverso utilizzo al finanziamento dei lavori di riqualificazione Piazza Vittorio Veneto, Fontana Piazza Nassiria e Lungomare San Marco vari interventi. L'importo complessivo dei lavori è di 265.641 euro di cui 196.103 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari a 6.090 euro e 69.537 per somme a disposizione redatto dall'UTC.